Oh stop, ragazzi se tirate al secondo pronti no, no, perché sennò faccio ritirare un'altra volta, si stancano pure loro, non potete dire dire tira, che tiri, quando si dice tira pronti, pronti, pronti 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 Il primo posto alla contrada Macere, 12 punti. Buonanotte a tutti, a domani, ciao! Buonanotte a tutti, a tutti.